Ciao a tutti, io sono Lilixiana, bentornati sul mio canale Ciao a tutti pandorine e pandorini, bentornati sul mio canale Sono felice, sono di nuovo qua, sono tornata Vedete? Piano piano sto diventando più costante Ci stiamo vedendo un po' più spesso Non credeteci, ho girato i video tutto lo stesso giorno Quindi non mi credete, non mi credete Oggi perché sono qui? Oggi sono qui perché devo farvi vedere un altro acquisto che ho fatto sui gruppi Un acquisto, cioè una cosa di cui vi ho parlato Vi ho parlato, vi ho fatto una testa, diciamo in maniera pulita Una testa così, perché qui ho le suggeritrici Perché io avrei detto altro, vi ho fatto una testa così E vabbè, non voglio dilungarmi troppo Ma sì, dilunghiamoci, perché insomma quanto deve durare sto video? Cinque minuti? Bisogna stare in compagnia Beh sì, qui mi fanno cenno di sì, in effetti cinque minuti sarebbero anche troppi in tua compagnia Mi stanno dicendo E vi faccio un piccolo spoiler Che poi ve l'ho già fatto nel titolo Secondo me, anche se non so che titolo avrà questo video Ecco lo spoiler Il bracciale con le magnoli, è che tanto vi piace? Riscosso molto successo, sto urlando Me ne sto rendendo conto da sola Ma in tanti, scusate lo metto bene, bene In tanti sicuramente immaginate cosa io sia riuscita a comprare Alla, innanzi, allà non si può sentire Alla Allora, innanzitutto devo ringraziare Valeria Che è una mia, oddio dire follower Ragazzi mi sembra una cosa così di distacco, di distanza Una ragazza che mi segue, carinissima Che poverina, non sapeva dove contattarmi Mi ha contattato sotto un video Mi ha contattato su Facebook Mi ha taggato sotto il post della vendita di queste cose Che vi farò vedere E io la ringrazio tanto, tanto Un bacione, tesoro bello Grazie a te le ho trovate, nuove di zecca E andiamo a vedere cosa sono Sì, andiamo a vedere cosa sono Dove ho messo il pacchetto Non trovo il pacchetto Beh, innanzitutto ho ricevuto la garanzia Perché, ragazze, la garanzia innanzitutto Ma non per il cambio in sé Perché io devo sapere l'originalità di quello che mi arriva E comunque, questo è il bigliettino della ragazza da cui ho comprato È Rosa Dani E voglio ringraziare Rosa Dani Perché è veramente una ragazza squisita La conoscevo solo attraverso i gruppi E voglio spendere pochi secondi Se me lo permettete E soprattutto per la disponibilità Perché veramente mi ha detto che mi teneva le clip Fino a fine pandemia Cioè, veramente Mai sentita una cosa del genere Perché di solito mi sento dire No, pagami adesso, mai più Anche perché qui la situazione, insomma In Lombardia era un po' più complicata E comunque, io di questo la voglio ringraziare Soprattutto per la gentilezza che mi ha dimostrato Solo questo E non so neanche se vedrà questo video Però ci tenevo a ringraziarla Vabbè, mi sto dilungando Ma voi lo sapete che sono una Che chiacchiera troppo Pacchetto Pacchettino E comunque, grazie per le caramelle Giorgia gradito Ragazzi, rullo di tamburi No, no, no Giorgia, rullo di tamburi Eccole Eccole Qua, scusate Via Da quella parte Sono le clip Magnolia Le ho trovate Le ho trovate Mi sento una dodicenne Ragazzi, le ho aperte Perché sono difficilissime Da mettere Quindi mi sono preparata Aspettate che prendo l'astina Ecco, ve le metto sulla mia astina Che nel frattempo È cresciuta durante questa quarantena Come sapete già la storia della mia astina Penso proprio che decorerò Che senso ha comprarla Quando la puoi fare tu a casa Forse la farò dorata Non lo so Ecco, vabbè Vi faccio vedere nel dettaglio Ma penso che non ci sia bisogno Scusate Ma ci sono i peli della pelliccia Come se non mi bastassero Quello dei gatti Ma adesso pure questi della pelliccia Ho chiuso Perdonatemi Piccoli Problemi di servizio Queste sono le clip Magnolia Oddio Come sono belle Anche se ancora Per completare il bracciale Mi ci vorrà una vita Per trovare tutto quello che cerco E comunque, vabbè Sono Vabbè Vi devo spiegare come sono Vabbè Sono smaltate In rosa e in bianco Anche se io Sinceramente sul sito Ho letto che sono Rosse Sfumate Ok Pandora Io ti ringrazio Per l'informazione E Vabbè All'interno hanno Delle piccole Zirconie cubiche Rosa Sono rosa Signor Pandora Perché veramente E Presto mi arriverà Una cosa Vi anticipo Una cosa Che si abbinerà A sto bracciale Ma non vi posso dire Nient'altro Non vi posso dire Nient'altro E niente Andiamo a montarle Andiamo a montarle Che emozione Come se non l'avessi Già montate prima Ragazzi Che siano nuove Ragazze È fuori dubbio Perché sono veramente Difficilissime Da aprire Ed ecco il momento Clou Andiamo a cercare Le filettature Mamma mia Ragazze No Ok Ho qualche problema Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Veramente Non il film Ragazzi Veramente durissime Da mettere Forse questo passaggio Poteva evitarlo Intanto qua I peli Della pelliccia Continuano a svolazzare Ok 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 So già che non le toglierò Mai più No vabbè Sto facendo una figuraccia Liliana E le clip Improponibili No scusate No scusate Fuori onda Mi devo far aiutare Ragazze Ce l'ho fatta C'è voluto parecchio tempo E anche le mani Più esperte Possenti Di qualcun altro Ed eccole qua Il bracciale Pandora Il bracciale Magnolia Vabbè S'assomigliano Dai Prende forma Ma aspettate Che non so Se riesco Bene bene A metterlo Ma se ve lo metto qua Non faccio prima Ma perché mi incasino Da sola Ecco Non lo so Io quando ho le clip Ragazzi Mi sento Realizzata Non lo so Cosa sto sparando Sposto questo Mi sento realizzata Allora Come vorrei Continuare Questo Questo bracciale Non lo so Ma comunque Vorrei Io non lo so Avendo una 18 Io ho sempre il problema Di dover acquistare E distanziazione Ragazzi Odio comprare Distanziatori Perché secondo me Costano troppo Cioè Io per esempio Su questo bracciale Se Giorgia Me lo zooma Ciao Giorgia Ci sei anche tu Anche in questo video Dove sono Ecco Nella parte centrale Ho i distanziatori Stranamente Non li ho voluti prendere Tutti pieni di pavè Anche se c'erano Non li ho voluti prendere Ho deciso di prendere Questi semplici In argento Quel cuoricino Anche se metto I distanziatori Comunque mi resta Sempre un bello spazio Io odio comprarli Questi li ho comprati Perché erano al 50 Non pensate E qui Niente Dovrò comprarli Vorrei mettere Due distanziatori Qui Però sono un po' Incerta Se effettivamente Mettere due distanziatori In magnolia In questo punto O prendere due distanziatori Che richiamano La catenina No lo so La catenella La catena di sicurezza Quella cosa lì insomma E poi vorrei continuare E finire con delle altre sfere sfere sfaccettate Che non lo so Magari che non siano proprio palescenti Magari anche semplicemente rosa Ne avevo trovate alcune Da Naviglio e fiume Sì mi sembra Però che erano Sì rosa Queste sfere sfaccettate Ma erano Interziate con l'argento Con delle foglie linee Non mi chiedete come si chiamano Perché non me lo ricordo E una sera mi sono deciso Ho detto Ma adesso me le compro Sono anche al 50% E ho indovinato un po' Non ce l'avevo più Grazie Naviglio e fiume Ti ringrazio Quindi l'idea È svanita Anche perché volevo fare In modo Non so Tutto sto fiore Questi Sti rametti Sti fogli Che usciva bene In tutte le mie Fisi e le mie mentali E Vabbè Lo so Un video lunghissimo Per farvi vedere Solo due clip Io me ne dispiaccio Però spero che Voi mi seguiate Soprattutto perché Io mi sono simpatica Ok Stavo rompendo un vaso Va bene Non so Se mi volete lasciare Qualche consiglio O c'è sempre Valeria Che magari mi trova A distanziatori No Vabbè Sul sito ufficiale Ci sono ancora È solo una questione Di Neros Magari li compre Che io li metto Sempre per ultimo Vedrete che alla fine Usciranno fuori produzione Pure quelli E io ciao Lili Che te li compri Va sempre a finire così Ragazzi Va sempre a finire così Ho sempre pensato Di farmi un bracciale Magnole Ma non l'ho mai fatto Ho aspettato Che tutte le magnole Uscissero fuori produzione Fantastico E Vabbè Comunque adesso Mi mancano gli orecchini Ragazzi Se sapete di qualcuno Che vende gli orecchini Se li trovate su qualche gruppo Se li trovate da qualche parte O anche voi Ve li volete togliere Proprio dalla vista Contattatemi qua sotto E telefonatemi I numeri verdi No Veramente Contattatemi Assolutamente E niente E io dico Non ho finito di parlare Mi merito Un cioccolattino E Io mi scuso Per le unghie tozze Però non avendo L'unico tecnica A mia disposizione Anche perché abita A 15 km Da qui E Io intanto Mi apro Il primo Perugina Leggo anche Cosa c'è scritto No Non so se li avete mai provati Ragazzi Sono veramente buoni Vediamo Cosa c'è scritto Amami soltanto Per l'amore Dell'amore Sì Io ti amo Io ti amo Ok Smetto di fare la stupida C'è Giorgia Che si sta strappando I capelli Io non ti capisco Giorgia Non ti sono simpatica Forse l'unica A cui non sono simpatica Ragazzi È mia figlia Io Mangio Nel frattempo Io vi saluto E vi ringrazio sempre Per tutto quello Che mi date Direte Ma cosa ti diamo Cioè Non ti sopportiamo Però Basta anche Un semplice commento E per me Tanto Soprattutto in questo momento Visto che non si può avere Un rapporto reale Con le persone È bello anche Quello virtuale Tante volte E comunque Io vi saluto Mi finisco il mio bacio Perugina E Ah sì Sapete che io sono Per sostenere Le altre ragazze Che stanno nascendo Sul tubo Che sono agli inizi Oggi vorrei salutare Sì perché volevo portare avanti Sta cosa Perché io voglio essere solidale Con tutti Assolutamente Io non ho niente Con tutte le altre ragazze Che nascono nel tubo Che si approcciano appunto A portare loro Meraviglie Anzi Io Quando ne scopro qualcuno Vado sotto lì A dire Oddio Ti ho appena scoperta Cioè Bellissimo Proprio L'adoro Sta cosa Sempre per una questione Di Sorellanza Tra noi E mai invidia Assolutamente Mai invidia Per nessuna Tra noi E Volevo salutare Appunto Cioè Io ti devo già chiedere Scusa già da adesso Perché sapete Che il mio inglese È molto più avanti Del vostro Quindi per questo Non riuscite a capire La mia pronuncia No vabbè Voglio salutare Mysterious 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 woman Ovvero Carlotta E Le mando un bacio E ti auguro Tante cose belle E un grande In bocca al lupo Un bacio A tutti quanti voi E ci vediamo Al prossimo Disastro Pandora Prima che qualcuno Mi uccida Iscrivetevi al mio canale Mi ero dimenticata Giorgia Giorgia sta morendo O iscrivetevi al mio canale Perché poi Giorgia mi uccide C'è una nocciolina Che mi sta andando Praticamente di traverso Ho sentito Iscrivetevi Se vi volete iscrivere Se non vi volete iscrivere Iscrivetevi al canale Di qualcun'altra Non fa niente È lo stesso Seguitemi su Instagram Però Un bacio a tutti quanti Vi voglio bene Scrivetevi al canale